Buongiorno a tutti, allora, 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 dobbiamo parlare della nostra Italia. Questa Italia che soffre, questa Italia che segna, soffre, e poi alla fine la sfanga, o meglio la vince, finalmente, finalmente una piccola soddisfazione. Un primo tempo da libidine, il gol di Di Marco, tanta roba, il secondo gol di Frattesi, fortunoso, ma è stato freddo davanti al portiere da fargli passare la palla tra le gambe, mentre lui era un'uscita, ha lasciato giusto lo spazzettino tra le due gambe, la palla è passata proprio in mezzo. Non so se è stato bravo o fortunato, ma comunque l'importante è che l'abbia messa. Quindi, stropicciamento di occhi, Olanda-Italia 0-2, con belle azioni, belle trame, un'Olanda che, come vi ho detto, balla in difesa in una maniera tremenda. Anche se bisogna dire, non so se è perché Retegui non è fortissimo, o perché si è risvegliato Van Dijk, o comunque perché aveva il riferimento di un giocatore, gli si è avvinghiato addosso. E diciamo che il povero Retegui è stato probabilmente il peggiore in campo, ma non per colpa sua. Se ti marca 1.600 milioni, non è che questo può giocare sempre male. Diciamo che Van Dijk ha fatto una buona partita e quindi ha annullato il buon Retegui, ma poi non ha marcato gli altri. Ma ragazzi miei, il gol di Di Marco è da, come direbbe il buon catto, spaccarselo in mano, perché veramente colpettino di tacco e lui di esterno a giro sotto l'incrocio. Quelli erano i gol che faceva Rive Lidio. Gol così ce lo fece del Mondiale del 78, se non ero Rive Lidio. Tiro così, a girare, che prende questo effetto così e va verso l'incrocio dei pali, portiamo, prende più neanche a piangere, l'ha fatto uguale. E poi, solito, fatto niente. È un gol della Madonna, però non è fatto niente. Nella ripresa, il buon allenatore dell'Olanda tenta il tutto per tutto. E diciamo che l'Italia soffre. Con una Cervi ancora on fire, un buongiorno che dimostra di essere un calciatore interessante anche per il futuro non solo della Nazionale, ma anche del Torino, ma anche magari di altre squadre che potrebbero farci un pensierino. Io, se fossi, buongiorno, scusate il mio raffreddore, farei un altro anno a Torino per confermare quello di buono che ha fatto nella passata stagione. E poi, approderei verso una squadra un attimino più libidinosa. Diciamo che il Torino è una squadra di media classifica, media classifica più o meno, nono, decimo, ottavo. Quindi magari puntare su una delle sette sorelle l'anno successivo. Magari non una big, andare in una Lazio, in una Roma, in un'Atalanta, per salire piano piano di livello e migliorarsi. Poi magari lo venderanno quest'estate, non si sa mai perché sta facendo molto bene. Comunque dicevamo, si soffre, prendiamo il gol del 2-1, prima viene annullato, no, dopo viene annullato il gol, è possibile, andiamo con calma. Perché l'Olanda, appunto, con il 4-1, 4-1, una roba del genere, tutti avanti alla riscossa, veramente, quattro centrocampisti che erano d'attacco, 5-5-5, il modulo di Ronzo Canale. Che si gioca in 15, no, è che praticamente erano 5 dietro e 5 avanti, non c'era la via di mezzo, infatti, quando ripartivamo, potevamo fargli male. Però, alla fine, il loro gol arriva, con Berguin, ben servito in aria, finta su di Marco e palla nell'angolino con Donnarumma, che rimane lì fermo, immobile. Ma era un tiro anche ravvicinato, quindi non è che potesse fare. L'unica cosa che poteva fare era magari uscirgli incontro invece di stare in piedi a guardarlo che calciava nell'angolino. Ma vabbè. Il problema per l'Olanda è che non fanno in tempo a godere che l'Italia riparte in contropiede, il buon Chiesa entra in area, diagonalone non si sa quanto voluto, forse era un passaggio per Rettegui, forse era un tiro in porta. In ogni caso, entra da sinistra, punta all'uomo, calcia in scivolata, diagonalone, palla sul pallo e quindi in porta. Quindi ci riportiamo a più due. Non si fa in tempo a godere che sul calcio di punizione, respitto dal coccodrillo, anzi no, da un giocatore olandese, la palla arriva all'attaccante dell'Olanda, che adesso non mi soviene, che segna. Però siccome che sul calcio di punizione c'è il tocco di un giocatore olandese, al momento del tocco l'altro suo compagno di squadra è nettamente in fuorigioco, quindi siccome l'ha toccato un giocatore olandese è un altro tocco e quindi lo devi considerare come se fosse un passaggio, comunque l'ha toccata, la palla arriva a lui e lui è in fuorigioco. L'avesse deviata un giocatore che era fare il coccodrillo, allora se era in posizione regolare, perché al momento del calcio di punizione, quando calciava, diciamo che era più o meno in pari con il giocatore che era dietro la barriera a fare il coccodrillo. Ma nel momento in cui il suo compagno la tocca, lui è nettamente avanti di due o tre metri, quindi è giusto annullare il gol, gol che comunque arriva con Wijnaldum, anche stavolta un'imbucata, e Wijnaldum la controlla in aria e calcia sopra Donnarumma che prova con la manona a toccarla ma non ci arriva. E quindi l'Olanda accorcia le distanze e si porta sul 2-3. Poi Pellegrini si mangia un gol e eravamo in 5 contro 3, o 5 contro 2. Passaggio a Barella che è in aria, potrebbe calciare lui, vede Pellegrini che è lì sulla, all'altezza del dischetto del rigore, gli passa la palla. Pellegrini è da solo, di fianco c'è un compagno in posizione regolare, volendola potrebbe passare, calcia in una maniera oscena e la butta fuori. Quindi noi potevamo andare sul 2-4, invece dobbiamo soffrire fino all'ultimo minuto, ma alla fine la portiamo a casa. E quindi ragazzi miei, finalmente dopo 5 sconfitte, 3 delle formazioni di club e 2 delle due nazionali, l'Under 20 e la nazionale maggiore contro la Spagna, finalmente arriva una vittoria per l'Italia, contro un'Olanda che è farfallona, mi permettete il termine farfallona? perché sfarfalleggia, gioca, si divertono, eccetera, ma la difesa, come direbbe Crudeli, la difesa, dov'è la difesa? Vergogna! E quindi ragazzi miei, a parte il Van Dijk che si è riscattato, tra virgolette, ma forse perché finalmente aveva un riferimento, aveva diceva, devo marcare il retegui, e gli è stato addosso, però se gli altri non difendono, non c'è poco da fare. Andatevi a vedere l'ultima occasione dell'Italia finale, veramente tutti avanti all'arribaggio, c'erano rimasti lì solo due giochi, noi eravamo in 5, loro erano in 2 o 3, potevamo fare quello che volevamo, abbiamo fatto la frittata, e lì ragazzi miei, sono errori che puoi pagare, perché stai vincendo 3 a 2, loro sono in pressing, eccetera, puoi fargli il quarto gol, non lo fai, fanno l'azione loro, ti segnano e tu l'hai preso nel pulipù. Meno male non è successo, però il rischio c'è sempre. Comunque ragazzoli, finalmente l'Italia torna a vincere, andiamo a dare un po' di voti, un po' di voti a questa partitonsola, con le formazioni e poi anche con chi è entrato. Allora, Donna Rub, sei e mezzo, ha fatto delle buone parate, sui due gol non è che potesse fare chissà che cosa, quindi va bene. Toloi sei, senza infamia, senza lode, non è che si è visto molto Toloi, forse anche perché dalla sua parte non è che arrivassero più di tanto. Comunque sei a Toloi, setta da Cervi, partitona ancora, sei e mezza, buongiorno, setta da Di Marco, poi il centrocampo, Frattesi, Cristante, Verratti, tutti promossi, un bel sei al sette a tutti e tre, e sette a Frattesi per il gol, sei al sette. Di onto sei, poi non lo servivano mai decentemente, sempre pallone o troppo lunghi o troppo corti, però quando si è fatto vedere qualcosina di buono l'ha fatto, quindi sei, sei più dai, retegui cinque e mezzo, non voglio essere cattivo, perché comunque era marcato da mister centomilioni, ma dai, quello che viene considerato il miglior difensore del mondo, e quindi va bene, cinque e mezzo, e Raspadori anche lui cinque e mezzo, no sei per il colpettino di tacco a Di Marco per il gol, dai sei, anche Raspadori ma, era carico a mille ma, alla fine poca roba. Vediamo ai cinque giocatori che sono entrati, Allora, 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 chiesa sei e mezzo, sette, ha fatto, ha fatto vedere che è tanta roba, purtroppo, purtroppo, no, fortunatamente per la nazionale, un po' meno per la Juve, perché se gioca bene sono uccelli per diabetici, bisognerà vedere se rinnova o meno, o se ne va, perché sta chiedendo al mondo, pare, pare che stia chiedendo al mondo, cioè questo è stato un anno infortunato, pagato, anziché dire grazie dello stipendio che, ero a casa a far flanella, quindi, ne riparliamo tra un anno, intanto rinnovo per un anno allo stesso prezzo, poi magari tra un anno, no, vuole già, queste cose, guardate ragazzi, io capisco che un calciatore, campa dieci anni, con questo lavoro, e poi di questi dieci anni, deve poi mantenersi per il resto della vita, però ogni tanto bisogna anche usare un po' il cuore, un po' meno il portafoglio, però ormai usano il portafoglio, quindi non dico nulla, Poi, Zaniolo, sei, anche perché potevamo fare un contropiede, lui era nella nostra metà campo, quindi poteva andare tranquillamente prima sul pallone, ha dormito, ha aspettato tre ore, che il pallone rimbalzasse, andasse oltre la metà campo, quando l'ha presa, è arrivato il difensore, gliel'ha portata via, e infatti c'era il buon Caressa, fa un po' pigro, Zaniolo, quindi sei, Pellegrini cinque e mezzo, perché non puoi sbagliare un gol del genere, e Spinazzola sei, perché non ha avuto neanche il tempo di fare nulla di che, e Barello a sei, dai, ha preso l'ennesimo giallo, anche l'altro giorno, va bene, ma fa niente, detto questo ragazzoli, contento per l'Italia, vittoria tre a due, finalmente una vittoria, si è sofferto, perché comunque l'Olanda, nel secondo tempo, ci ha fatto vedere un po' i sorcidi verdi, però sono troppo alle grotti, Van Gaal come, no, Koeman come Van Gaal, come il classico gioco olandese, bello, allegro, divertente, eccetera, eccetera, ma la difesa, se non c'è la difesa, su cazzi, come direbbe il buon Christian De Sica, adesso ce ne andiamo in letargo ragazzi, o meglio, adesso ci sono le altre partite delle qualificazioni dei prossimi giorni, alla fine di tutti i video vi farò anche le schedine e bollettine del gigione, anche stasera, stanotte sarà una lunga nottata, perché dobbiamo parlare dell'altra gara, quella tra Spagna e Croazia, anche se la vedrà molto velocemente, perché, ahimè, non dico niente, non dico nulla, ci vediamo dopo, ciao!